Musca resta isolata ma il Consiglio di sicurezza dell'ONU non riesce ad essere compatto. Come era previsto, la Russia ha posto il veto sulla risoluzione che deplora l'invasione in Ucraina e chiede di fermare immediatamente le operazioni militari. La Cina si è astenuta, l'India dopo vari tentennamenti si è accodata a Pechino. Secondo l'ambasciatrice americana presso le Nazioni Unite, questa è una guerra voluta dalla Russia che ha scelto di invadere un paese confinante. Dura anche la condanna espressa dal segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, secondo il quale le Nazioni Unite sono nate per mettere fine a una guerra, ma oggi quell'obiettivo non è stato raggiunto. Non dobbiamo tuttavia arrenderci, ha detto, sottolineando che si deve dare un'altra possibilità alla pace. I soldati devono tornare nelle loro caserme, i leader devono tornare sulla strada del dialogo. Pace, una parola che è risuonata più volte nelle stanze del Palazzo di Vetro. Dopo la votazione, la maggior parte dei membri del Consiglio si è riunito con la bandiera ucraina nella sala dove campeggia un arazzo con la riproduzione di Garnica e di Picasso, il capolavoro considerato il dipinto per eccellenza contro la guerra.